Move it! I like to move it, move it! I like to move it, move it! I like to move it, move it! You like to move it, move it! I like to move it! Eccoci arrivati al Festival del Fumetto Spring Edition di Novegro. Ringraziamo il Cosma Family che è l'organizzazione della contest dei Fusplay e anche l'organizzazione del Parco Esposizioni di Novegro. Andiamo in fiera! Siamo qui con PatchESCAMFeed. Non lo so se tutti conoscono questo Anime Loac evolutional believe! Volevo fare un paio di domande su protENE. Come mai PatchESCAMFeed? Allora io quando l'avevo guardato per la prima volta per anni mi sono innamorato con i suoi ideali, i suoi stili di vita, le canzoni e ho deciso di fare le sue cose. Da quanto tempo ha portato questo cosplay in Fiera? L'ho portato per la prima volta a Moveto, che l'avevo finito, di domenica, di febbraio. Perché era il mio compleanno! E ai tempi non è ancora finito, avevamo quelli biondi, io chiaro sono destino. Ok, grazie mille! Siamo qui con uno dei Ghostbusters oggi! Ecco, salutate, perfetto! Volevo fare un paio di domande, dunque da quanto tempo hai cos'è? Allora, diciamo i cosplay li conosco da una vita, ma questo è il primo anno che faccio i cosplayers. Allora siamo in due, perfetto, ottimo! E come mai hai nata l'idea dei Ghostbusters? Cioè, soprattutto, come hai fatto a realizzare tutto? Ho realizzato tutto con tanta voglia e tanto tempo! Però ne è valsa la pena! Gli ho già fatti tipo tre di zaini, però ne ho guardato solo uno, sempre solo. E è un punto di preoccupato. E Ghostbusters è la passione, diciamo, di tutti i piccini che hanno visto il film. Cioè, diciamo che è un sogno che si realizza. Un sogno che si realizza. Un sogno che si realizza. Ho detto, dai, facciamolo con Ghostbusters. E così ho messo su una tuta, ho fatto lo zaino, sono pronta a chi fare il contatto. Diché, detta così è facile, però poi in realtà c'è una lavorazione, tutta nulla. Beh, complimentoni! Grazie mille! Grazie mille a te! Ciao! Benvenuti su Baticla. Oggi abbiamo Lupen e Jigen. Volevamo un po' di domande a tutti. Cos'è? Cosplay? Ma cos'è cosplay? Secondo me è un tesoro. Io di solito sono sempre così ogni giorno. E come mai è una vera idea di fare il film di Lupen? Sì. Perché so che c'è anche un gambe, lo utilizzate, anche un altro piccolo. Sì. Bravissimo. Come mai? Eh, come mai. Eh, sono i nostri personaggi preferiti, tipo, di infanzia, quindi... giustamente bene. Ok, grazie mille. Grazie a te. Durando per il bosco abbiamo incontrato i Ghost di Call of Duty, per chi non lo sapesse. Facciamogli un paio di domande. Quindi tipo, perché il cane? Cosa c'entra il cane? Perché il cane ce n'è il nogo. Eh? E come si chiama? Rade. Ah, è anche un contatto, immagino. Sì. Ovvio. E voi avete lanciato questa moda dei baffi a proposito. Cosa sta a significare? Che di birra e di fregna il baffo si infregna. Ovviamente. Concludiamo così. Grazie mille. Grazie mille. Uh! Sempre incamminandoci per il bosco abbiamo incontrato un assassino. Chi sei esattamente? Connor Kenway di Assassin's Creed 3. Ok. Perfetto. E spiegaci un po' il tuo particolare costume. Armi. Armi, beh, il personaggio è per metà inglese e metà indiano. D'America immagino. D'America immagino. D'America immagino. L'arco infatti. Quello. Le frecce. La lana celata perché è la salute arma principale degli assassini. E... Il cappuccio. Il cappuccio. Simbolico direi. Simbolico direi per tutti gli assassini. In particolare... E oltre a Connor ha gli altri cosplay che hai mai portato al cosplay. Un uomo tigre. Oh, perfetto. Abbiamo un Tiger Mask, ragazzi. Grazie mille. Grazie mille. Abbiamo incontrato un altro assassino. C'è il festival del fumetto di novembre. Ricordiamolo sempre. Presentati. Sono Dittore da Firenze. Anche se in realtà vengo da Brescia, ero lì accampato. Ho fatto una corsetta più a cuore, una corsetta climatica. Da quanto tempo vengo su lei? Sei mesi, potrei dire. Un po'? Un po'? Un po'? Vabbè, il costume è veramente elaborato per essere solo da sei mesi. Complimenti, sì. Beh, complimentoni. Complimentoni davvero. Grazie. Abbiamo qui la nostra splendida Poison Ivy, ovvero la nostra carissima Ginevra. Tu, Ginevra. Perché Poison Ivy? Perché hai deciso di portare Poison Ivy al chiedere. È sempre stato uno dei miei personaggi preferiti dei frumenti. E soprattutto penso che abbiamo questo studio che fa tutta scena. E quindi... Non ho messo quello di fare in questo. Ok, non ho fatto tutto. È così. Quanto c'hai messo a prepararlo? Parigi. Ho cucito le foglie. Una penna a mano. Ah, no? Perché non sto usando la macchina. Perfetto. Quindi un paio di mesi ce l'ho messo. Ah beh, anche poco. Ricordiamo poi, tra l'altro, che oggi ci sarà una gara cosplay all'interno della fiera di Sino Negro. E la mia gara a Ginevra mi accompagnerà nella gara appunto. No! Dopo il boom della serie CQ Arrowv, su Italia 1, Italia 2, esas 이번 convinemente, 넣iamo un signor di A filmmakerò di Q15. Sempre sono. Coate a tutti, chiamatevi darmi loci ma non posso farla sentire in pubblico. Vi conoscete tutti come Arrowv. Ovviamente la dignità è un segreto anch'è. Io posso? Ma andiamo a vedere il tema Ciao, ciao Questa fiera di cui appunto abbiamo parlato in radio Lì sono un pesco E come mai? No, di quanto arriva la fiera io? Mi faccio un piaccio di polvo Noi, probabilmente fiavarsi Quindi qualche organizzazione Abbiamo incontrato Batman e Thor Dunque ragazzi, faccio un pesco? Si Ok, perfetto Abbiamo anche un po' faccia in alto che continua Pronte Cosa fai? Abbiamo deciso di fare due universi completamente differenti L'avventura era una persona Questa è una persona Questa è una persona Questa è una persona E io era un palazzo Quindi... E' una persona E' una persona E' una persona E' una persona Cosa 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 I don't need no hero